questa è la grotta cosiddetta di zichecca molto molto profonda è una grotta carsica grazie saluti ciclistici buongiorno ciclisti questa mattina sono arrivato qui non so se rendo l'idea forse vado troppo veloce con l'inquadratura ma questo è vi piace questa grotta questa fenditura questa grotta questa fenditura della montagna dobbiamo avvicinarci questa continua vi sentite sentite l'eco sentite l'eco questa continua ma se continuo tocco con il casco ci proviamo e lì finisce ecco la quella è la fine della grotta purtroppo con il casco potrei urtare e forse neanche ci passo perché è molto stretta toccato con il casco scusate l'inquadratura è giusto per farvi capire dove sono arrivato e stavattina guarda che bello tutte carotte ciao ciao anzi saluti ciclistici ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti